cari amici di gogo verde oggi guarderemo assieme e scopriremo assieme il nuovo programmatore della hunter l'idrawise con controllo remoto domotico perché domotico perché ha la possibilità e direi che sia quasi d'obbligo la possibilità di collegarsi alla nostra rete wifi ed essere controllati in maniera avanzata tramite la web app quindi un sito internet su cui andremo a impostare tutte le varie regolazioni che vogliamo effettuare con il nostro programmatore e che vedremo insieme nella seconda parte del video al computer innanzitutto apriamo la confezione ecco qua in cui possiamo trovare il nostro manuale utente un semplicissimo manuale in cui viene spiegato vengono spiegate le modalità di collegamento cioè come si collega fisicamente il programmatore all'alimentazione all'elettrovalvole e agli eventuali sensori microscopici sensori microscopici sono quelli che sentono l'acqua nel terreno tipo il miniclick o il solar sink della hunter semplicissimo in cui la fine poi ci manderà ovviamente nel sito idrawise.com perché perché la configurazione di questo programmatore va effettuata andrebbe effettuata sarebbe meglio fosse effettuata tramite web app tramite il loro sito oltre al libretto possiamo trovare l'alimentatore con i due poli scoperti per il collegamento al programmatore e alla letta elettrica dei semplicissimi tasselli dei banali tasselli per il fissaggio a muro e il nostro programmatore il programmatore appare molto semplice perché appunto le vere funzionalità sono quelle espresse nel sito web nella web app di idrawise possiamo trovare semplicemente aprendo questo sportello questo vano in maniera delicata senza cercando di non romperlo ecco qua troveremo tutti i collegamenti per le nostre zone e per l'alimentazione e per i sensori vi spiego brevemente qua va l'alimentazione indifferentemente dalla polarità qui si collega il segnale della zona segnale dell'elettrovalvola e qui si collega il comune dell'elettrovalvole si uniscono i fili in comune si inseriscono all'interno per maggiori informazioni potrete vedere il video nei correlati scusate in cui vi spieghiamo brevemente come si collega un elettrovalvola un impianto di irrigazione a un programmatore allora perché è importante questo programmatore questo programmatore è molto importante perché segna un passo grossissimo in avanti nella domotica da giardino questo programmatore scusate se mi ripeto permette quindi un controllo avanzato di tantissime funzionalità oltre alla possibilità di collegarsi a una stazione meteorologica da la possibilità anche di controllare il budget idrico e regolarlo in base alla stagionalità oltre a poter bloccare sbloccare eventuali zone non permettere o non permettere a vari utenti in caso di utilizzatori professionali l'apertura e la chiusura di varie zone la regolazione quindi magari se io sono un installatore voglio fornire questo programmatore a un condominio a un cliente un terzo comunque posso fornire il programmatore impostarglielo e limitargli tutte le funzionalità avanzate che spettano tra virgolette al giardiniere permettendogli però magari di aprire o chiudere delle zone in base a un'esigenza particolare nel caso voglio aprire innaffiare il giardino per far vedere che funziona oppure semplicemente aprire l'acqua in una determinata zona perché magari in quel momento c'è stata una rottura o qualunque altra cosa inoltre questo programmatore può essere collegato a un flussimetro un flussimetro collegabile quindi con dei fili diciamo un flussimetro elettrico che quindi farà in modo di segnalare al programmatore eventuali perdite per esempio se l'elettrovalvola rimane bloccata o se c'è un tubo rotto prima dell'elettrovalvola lui te lo dice semplicemente ti dice guarda c'è un passaggio d'acqua attenzione c'è qualcosa che non va questa è una funzionalità molto comoda per impianti grossi da giardino o comunque per impianti remoti in cui magari non andiamo molto spesso allora dato un'occhiata iniziale al nostro programmatore andiamo assieme a computer a vedere le estreme le estremamente variegate funzionalità che ci fornisce i draw wise allora prima di andare a computer voglio farvi vedere come si collega alla rete wifi il nostro programmatore in questo caso sto utilizzando il programmatore 12 stazione per comodità perché avevo già disponibile questo abbiamo già installato le due elettrovalvole nella zona 1 nella zona 2 i poli positivi e i comuni sono inseriti all'interno del foro per i poli appunto comuni non abbiamo sensori quindi sensori spazio per i sensori vuoto e l'alimentazione attiva come potete vedere dal led verde tocchiamo il touchscreen ci troviamo davanti la schermata in cui noi andremo vi faccio vedere esattamente come prima schermata noi vedremo questa spero voi possiate vederla faccio un po di zoom in questo caso appunto c'è il wizard di configurazione vado a cercare innanzitutto una rete wifi libera questa e vado a inserire la password ci vuole un attimino di tempo per completare la connessione ed è connesso una volta connesso verifichiamo che tutte le cose siano a posto e andiamo nella home abbiamo già praticamente fatto una volta connesso possiamo vedere per esempio lo stato della connessione e stato del controller che tipo di firmware c'è da quanto tempo è attivo e da quanto tempo è sincronizzato possiamo inserire dei moduli di espansione in questo caso non sono attivati ma si possono aggiungere varie zone a questo programmatore abbiamo i sensori per visualizzare che tipo di sensori ci sono fisicamente se sono attivi e possiamo anche testare un'apertura delle varie zone in questo caso possiamo aprire la prima chiuderla andare nella seconda zona aprirla e chiuderla in questo caso abbiamo verificato che tutto è a posto e vediamo semplicemente se avessimo connesso un sensore un rilevatore di flusso diciamo un contatore d'acqua avremo direttamente l'utilizzo dell'acqua di quella stessa zona andiamo a vedere quindi a questo punto veramente a computer come si configura il nostro programmatore Hydrawise eccoci qua adesso che abbiamo configurato il nostro programmatore collegando con la nostra rete wifi possiamo andare sul portale di Hydrawise su Hydrawise.com e andare a cliccare su try now in questo caso sono già loggato quindi non mi farà fare la procedura di registrazione ma è molto semplice basterà inserire la mail farsi recapitare la mail di conferma della registrazione inserire una password una volta collegati al portale ci troveremo questa schermata qua davanti benvenuto andrea benvenuti in Hydrawise per semplificare le operazioni sarete guidati attraverso una procedura assistita per la configurazione del programmatore iniziamo quindi col wizard di programmazione del nostro Hydrawise nel nostro hc controller diamo un nome qualsiasi al nostro programmatore Gino e inseriamo il numero di serie il numero di serie possiamo inserirlo adesso o successivamente in questo caso non lo inserisco perché non voglio ancora collegare effettivamente il programmatore ma farvi vedere un po in maniera semplice la procedura di configurazione del nostro controller continua selezioniamo il nostro programmatore in questo caso un hc a 6 zone e ci troviamo già nella prima sessione di programmazione zone andiamo a configurare quindi i nomi delle zone i tipi di irrigazione le durate le immagini le icone andiamo a vedere nel dettaglio inseriamo il nome della zona che questo è indicativo per farci riconoscere visivamente che zona è in questo caso mettiamo prato retro casa la zona in questo caso il numero di zona è uguale a quella in cui questa zona è cablata cioè abbiamo una retrovalvola nella zona 1 nella zona 2 nella zona 3 nella zona 4 andiamo a selezionare quale di queste vogliamo andare a configurare e a dargli il nome mettiamo un'icona quella che ci più ci aggrado quella che ci aiuterà a identificarlo anche visivamente andiamo a selezionare il tipo di irrigazione in parole povere qua andiamo a settare come si comporta il programmatore in base agli avvenimenti che succedono presi da per esempio o le stazioni meteo o i sensori di pioggia inserite all'interno guarda io vi consiglio vivamente di andare direttamente su solar sync virtuale perché è la più moderna e la più elaborata praticamente è quella creata ultimamente da hunter assieme a hydra wise per fare in modo di regolare automaticamente la durata di irrigazione questa e questa regolano la durata effettiva dell'irrigazione cioè se ho sette irrigazioni a settimana cioè una al giorno qui posso fare sette irrigazioni da dieci minuti che variano più o meno dieci minuti cioè 11 12 13 minuti in base a se fa caldo se fa freddo eccetera e andremo a vederlo poi nel dettaglio anche qui la stessa cosa qua invece vado a regolare quante volte regolare l'irrigazione impostata quindi io imposto una regola fissa cioè dieci minuti di irrigazione e il programma smart mi darà e farà in modo di irrigare con più o meno frequenza sempre quei dieci minuti quindi avrò due irrigazioni da dieci minuti un irrigazione da dieci minuti qui è una scelta tra virgolette filosofica in realtà a me piace e vi consiglio vivamente di utilizzare solar sync virtuale perché la più avanzata della più comoda da utilizzare andiamo successiva andiamo alla pagina successiva e ci ritroviamo davanti questa schermata tipo di irrigazione immettere allora la frequenza di sotto usare un programma di irrigazione pre configurato non abbiamo programmi di irrigazione pre configurati quindi immettiamo la durata di irrigazione questa la stabiliamo in base a o quanto vediamo cioè facciamo delle prove di irrigazione senza il programmatore attivando manualmente le zone e vedendo quanti minuti servono per irrigare correttamente quella zona se magari rimane molto secco o se magari rimane molto bagnato adattiamo e mettiamo un tempo standard in questo caso ad esempio dieci minuti frequenza di irrigazione lasciate così perché poi andremo a verificarlo all'interno di zone programmi e che poi ci verrà anche richiesto proprio nel wizard e qui ho la parte più importante è più smart relativa appunto alle predizioni della qua è proprio tradotta in italiano praticamente qui vado a regolare l'irrigazione in base a i parametri che seleziono e in base alle previsioni che avrò dalle stazioni meteo a cui mi collegherò e vi farò vedere anche come collegarsi successivamente qui posso dire quando non irrigare cioè se ho previsioni di temperature inferiore a 20 gradi o se ho una precipitazione nell'ultimo giorno di tre millimetri o superiore per esempio appena piovuto non irrigare oppure fa freddo non irrigare oppure ho una probabilità di pioggia quindi le previsioni del meteo e le stazioni meteorologiche adiacenti mi prevedono una possibilità di pioggia elevata cioè l'ottanta per cento oppure se ho avuto in questi ultimi sette giorni pioggia abbondanti quindi il terreno ancora umido irrigare ulteriormente porterebbe solo problemi e consumo d'acqua eccessivo vado avanti anche questo è molto importante ed è molto comoda come funzionalità e serve ad evitare il ruscellamento praticamente cos'è il ruscellamento se io irrigo per esempio in un terreno molto argilloso in maniera intensiva per esempio 10 minuti continuativi e il terreno non riesce ad assorbire tutta l'acqua che gli do si crea quel fenomeno che è il ruscellamento cioè praticamente l'acqua ristagna e scorre all'interno proprio sulla superficie del terreno andando a creare magari pozze o chiazze d'acqua nel caso in cui non ci sia una perfetta regolarità cosa che infatti non esiste qui posso abilitare il ciclo di assorbimento e dire quanto deve durare la durata massima di irrigazione della zona cioè qual è il tempo limite su cui voglio irrigare per esempio voglio irrigare per 10 minuti il mio prato ma so già che dopo 5 minuti si creerà ruscellamento perché un terreno molto argilloso metto 5 minuti e il tempo di assorbimento in quanto tempo quel terreno argilloso assorbirà tutta l'acqua che gli do metto 5 minuti cosa succede qua quindi il programmatore saprà che deve irrigare per 5 minuti continuativi dopodiché si deve fermare per 5 minuti e riprendere irrigare per altri 5 minuti fino a completare l'irrigazione che io ho impostato precedentemente di 10 minuti questa cosa si adatterà in base anche agli altri programmatore alle altre scusate zone quindi elettrovalvole quindi solo dei rusciolamenti impostati del scusate del ciclo di assorbimento impostato negli altri programmatore nelle altre zone si adatterà in base anche a quelle impostate in precedenza o successivamente così come anche l'adattabilità del solar sink virtuale poi andando in avanzate andando in avanzate andremo a questo lo possiamo fare successivamente variare in percentuale la quantità di irrigazione la quantità d'acqua che voglio nel mio prato questo lo farò nel caso in cui mi accorgo che magari le impostazioni che ho selezionato non vanno bene perché secca troppo o irriga troppo in base a e che dico quindi di irrigare di più o irrigare di meno per quella zona specifica una volta finito premo ok in questo caso lo lascio normale perché non so ancora come si comporterà in questo specifico caso posso aggiungere un'altra zona sempre col solar sink virtuale metterò fronte casa giardino scusate la sua tastiera coperta metterò un altro simbolo magari una iuola solar sink virtuale metto 5 minuti di irrigazione imposto sempre gli stessi dati che posso comunque andare a variare successivamente vi farò vedere dove magari è un'aiuola o del terriccio un po più drenante non abilito il ciclo assorbimento quindi non ho ruscellamento finito di irrigare continuo ecco qua adesso andremo a impostare l'orario di partenza cioè quando inizierà il ciclo di irrigazione di tutte le nostre zone o di una delle zone qui posso mettere 5 di mattina o l'orario previsto nelle 24 ore posso mettere l'irrigazione normale quindi ogni settimana sempre solo nelle settimane pari solo nelle settimane dispali e questo questo tempo di irrigazione verrà utilizzato solo se tutti i tempi di irrigazione normali sono stati utilizzati nella giornata di solito si utilizza questa funzione cioè normalmente irrigo ogni giorno selezioni i giorni della settimana magari il mio comune dice il sabato non voglio non voglio che irrighi perché ho un consumo d'acqua eccessivo oppure semplicemente voi non volete irrigare in quei giorni perché magari il sabato avete un'area convegne esterna che fa dei convegni esternamente il sabato tolgo il sabato quindi il sabato non verrà irrigato il giardino in nessuna zona o in questo caso posso selezionare le zone posso selezionarle tutte solo una oppure esatto con la funzione applica tutte queste zone facciamo un esempio concreto devo irrigare varie parti del mio prato applico a tutte le zone alle 5 di mattina parte il programma continuo qui mi chiede l'impianto di irrigazione è dotato di una master valve la master valve sarebbe la valvola scusate tolgo questo questa notifica ecco la master valve sarebbe quella valvola che è a monte di tutto l'impianto di irrigazione cioè la valvola principale che immette l'acqua nel circuito quella praticamente il rubinetto principale qui cosa succede possiamo selezionare nel caso abbiamo una valvola principale per interrompere tutto la master valve quindi in base a dove abbiamo collegato sul nostro programmatore diciamo che è in quella zona lì oppure no non è presente in questo caso non è presente qua mi chiede di mettere la posizione del programmatore anche questo è molto importante perché si deve collegare alle stazioni meteo e a capire in quella determinata posizione che previsioni meteo ci saranno e che cose succederà magari se è già piovuto se piove se pioverà premo continua attivare l'irrigazione basata sul meteo vi consiglio vivamente di cliccare su sì perché appunto è la funzione principale di questo programmatore si desidera che la stazione meteo venga scelta automaticamente cliccando su sì mi prenderà la stazione gratuita più vicina creando una sorta di stazione meteo fittizia che si baserà sulle previsioni che ci sono in quel momento cliccando su no posso scegliere in base alla mappa la stazione meteo gratuita o a pagamento più vicina quelle verdi sono le più gratuite sono quelle gratuite sono quelle magari di privati scusate personali sono quelle a pagamento sono quelle private a cui devo chiedere il permesso o devo pagare oppure seleziono come potete vedere in prossimità del mio programmatore è stata creata questa qua che è una stazione meteorologica tra virgolette virtuale cioè si basa sulle previsioni meteo delle stazioni meteo più vicine e delle previsioni di weather underground cioè the weather channel è presente un sensore pioggia un misuratore di portata in questo caso non abbiamo sensori al momento però sarebbe comodo avere vi consiglio vivamente di avere almeno un misuratore di portata sensore pioggia vi serve semplicemente per capire effettivamente sul luogo stesso se ha piovuto o meno però può essere utile in certi casi e poco utile in altri nel senso ho un sensore pioggia che mi misura magari la quantità d'acqua caduta in quel determinato posto però magari un metro dopo vuoi per un milione di motivi presenza di piante vento qualunque cosa mi potrebbe misurare una quantità d'acqua sbagliata e quindi darmi un segnale sbagliato oppure al contrario la previsione meteo mi ha detto che sono caduti 10 mm ma nel mio posto a casa mia ne sono caduti 5 o 20 può essere utile o non utile lì è una scelta da fare da ponderare non saprei neanche consigliarvi cosa fare in questo caso perché è proprio una scelta è una scelta da fare dovete farla voi io vi consiglio di basarvi sulle previsioni meteo perché sono abbastanza precise almeno nelle nostre zone ho un misuratore di portata misuratore di portata invece molto importante cosa fa il misuratore di portata capisce quant'acqua passa inviando di impulsi al programmatore e riusciamo a capire quindi il nostro consumo d'acqua effettivo perché c'è proprio un flussimetro classico flussimetro con impulsi e ci fa capire anche nel caso in cui abbia tutti i programmi su off e il misuratore di portata comunque continui ad andare mi fa capire se ho delle perdite nell'impianto se ho delle elettrovalvole bruciate eccetera eccetera che magari rimangono aperte qua posso aggiungere un sensore un sensore di pioggia un sensore hunter un sensore metrico semplicemente ad impulsi qua vado a scegliere in base al sensore che voglio inserire e lo vado a inserire e vado a dirgli che è assegnato al spazio sensore 1 che abbiamo visto prima lo spazio sensore 2 posso impostare le zone che utilizzeranno il sensore cioè io voglio che in questa zona qua voglio che il mini click per esempio il solar sink vada a comandare vada a essere prioritario per questa zona qua e magari in questa zona qua voglio dire no non mi serve sapere quanta pioggia cade o se il flussimetro vada o meno fa lo stesso questo è molto importante io vi ripeto soprattutto per quanto riguarda il sensore del flusso il flussimetro continuo in questo caso non ho nulla complimenti la configurazione base del programmatore è stata completata adesso dovremo aver finito come potete vedere sanno il meteo sono 23 gradi in questo momento ci sono scusate sono 23 gradi previsti per sabato sono previsti temporali con la percentuale di possibilità la probabilità di pioggia la percentuale di umidità è la velocità del vento cosa vuol dire anche la velocità del vento ci sono delle impostazioni che andremo a vedere nei parametri climatici che vi voglio appunto far vedere adesso in cui posso dire non irrigare per esempio quando la velocità del vento è prevista oggi superiore a 30 km orari se ho un vento di 60 km orari 100 km orari facciamo gli esagerati non voglio irrigare perché perché gli irrigatori sicuramente non irrigaranno nel modo corretto quindi tanto vale star fermi non irrigare ma questa è una funzionalità che possiamo attivare o disattivare di base disattivata qui poi ho le varie le variabili che vanno a influire sui nostri programmi in questo caso come potete vedere ci sono 80 per cento probabilità di pioggia 3 mm 10 mm che sono le stesse che mi ritrovo qua se io vado a calare questo qua verrà tra virgolette esclusa e varrà quindi la regola che imposto in questa piattaforma in questo specifico tab scusate qui per esempio possiamo ammettere di non irrigare quando ho una percentuale superiore al 90 per cento perché magari non mi fido e voglio essere sicuro di irrigare il mio prato magari sono in una zona molto siccitosa quindi anche se ho delle piogge voglio essere sicuro che piova posso dire di irrigare il quanti per cento in più in base a quale temperatura c'è ad esempio se ho 40 gradi centigradi vuoi irrigare il per esempio il 70 per cento in più posso inviare questa cosa qua ovviamente man mano che aumenta la gradazione il programmatore aumenterà a step a step tramite il solar sync virtuale l'irrigazione in maniera percentuale quindi non è scalare cioè a 40 gradi irriga il 70 per cento in più basta è molto progressiva questa cosa qua invece vado a impostare la percentuale di irrigazione in giù nel caso faccia più fresco perché ho un'evapotraspirazione più bassa quindi dovrò per forza di cose sarebbe meglio non per forza di cose irrigare un po meno per non sprecare acqua per evitare appunto ristagni d'acqua non graditi al prato qui posso dire di non irrigare quando la temperatura è inferiore a 20 gradi ma posso anche mettere 10 gradi cioè quando fa freddo non irrigare e poi posso usare la temperatura prevista e la precipitazione prevista per prevedere l'irrigazione smart cioè posso diriguarda usa l'irrigazione ma non usare la temperatura poi regolazione stazioni meteorologiche posso dare posso interrompere automaticamente l'irrigazione in base a questi dati cioè cosa vuol dire posso dire invece di 3 mm non irrigare quando sono superiori a 10 mm magari perché so già che ripeto una zona molto siccitosa e anche se nelle ultime 24 ore sono superiori a 10 mm irrigazioni se ho 50 gradi ogni giorno aumento questo valore stessa cosa qua se negli ultimi 7 giorni sono caduti 10 mm d'acqua io aumenterei questo valore perché magari negli ultimi sette giorni ha fatto 30 gradi all'ombra ho i sensori come detto prima qui possiamo creare i sensori personalizzati o delle variabili o delle funzioni più avanzate rispetto alla configurazione wizard qui ho le impostazioni del programmatore che mi fa vedere che fuso orario sto utilizzando il ritardo delle valvole questo serve semplicemente per ritardare in secondi l'attivazione delle valvole rispetto alla valvola principale per esempio e qui ho praticamente semplicemente tutto ciò che ho impostato le stazioni meteorologiche mi fa capire dove sono collegato ho le espansioni perché ho la possibilità di espandere con dei moduli di espansione fino a 36 zone il nostro programmatore hc e ho le regolazioni offline cioè quando il programmatore offline cioè non è connesso a internet che tipo di impostazioni voglio dare 0% a gennaio 0% a dicembre do delle variabili fisse in questo caso a seconda della stagionalità questo serve in caso di disconnessioni quindi se per esempio è una zona che è un programmatore che non controllate avete una rete wifi ma metti sfiga metti qualunque cosa ti si disconnette lui imposta queste funzioni qua cioè si imposta in base a questo non segue più il meteo non segue più nulla ma almeno non in riga a gennaio detta come va detta e qui ho i report i report mi dice il consumo d'acqua nel caso in cui abbia un sensore il meteo cosa è successo lo storico la diagnostica se ho per esempio dei problemi con i solenoidi dell'elettrovalvole insomma ho tutti i report che mi possono servire poi in alto a destra possiamo trovare il controllo remoto questo è comodo da app se voglio fare il classico sporone con gli amici per attivare magari o non attivare le irrigazioni di una determinata zona qui ho gli eventi cioè che mi fa vedere esattamente per filo e per segno cosa è stato fatto sul programmatore e come ha agito il programmatore questo può servire molto comodo anche per dei manutentori che vedono effettivamente cosa è successo se è stato variato qualcosa o se c'è qualche problema in generale questo invece questa funzione avvisi è molto utile sia per i manutentori sia per il cliente finale perché ci consente appunto di ricevere notifiche su potenziali problemi con i collegamenti elettrici per esempio le valvole se non è collegato se va a massa se è bruciato il solenoide i tubi e il programmatore hunter per esempio il programmatore si rompe perché cade un fulmine sul programmatore si rompe e cosa succede il portale idrawide non vedendo più connessione ci manda un avviso ci dice attenzione c'è un problema col programmatore con i tubi invece tramite cosa per esempio un consumo d'acqua elevato per una zona o un consumo d'acqua da basso per una zona per esempio ho aperto le valvole ma il flussimetro mi dice che non passa acqua vuol dire che c'è un problema di approvvigionamento idrico oppure o le valvole chiuse e il flussimetro va tantissimo oppure o le valvole aperte e il programmatore si accorge che il flusso d'acqua è molto superiore alla media vuol dire che c'è qualcosa di rotto mettiamo caso si rompe un irrigatore esplode un irrigatore si apre il tubo quando è chiuso l'irrigatore quando è chiusa la valvola ovviamente non ci sarà errore perché non ha flusso quando apre la valvola il programmatore si renderà conto tramite il regolatore di flusso che c'è troppa acqua che esce fuori da lì quindi dice attenzione c'è un problema nell'impianto questo è molto molto comodo per evitare consumi spropositati rotture oppure per evitare di diventare matti e capire magari dopo una settimana che c'è una perdita d'acqua perché ho un lago invece del mio giardino qui per esempio posso mettere il nome di avviso perdite consumo d'acqua più elevato rispetto alle ultime irrigazioni in questa zona come potete vedere posso dire se ho un consumo di acqua del 50 per cento più elevato avvisami applica tutti i programmatori e sensori azioni cosa posso fare qua aggiungere registraventi ok viene sempre fissato questo registraventi infatti mi dice no non lo puoi togliere per fortuna invia notifica app invia notifica sms sospendi la zona quindi cosa posso fare se avviene quello che ho detto cioè l'acqua è superiore del 50 per cento il passaggio d'acqua superiore al 50 per cento rispetto alla media dell'ultima zona cosa faccio inviami una notifica nell'app in questo caso non ho ancora installato l'app sul cellulare quindi faccio un test di invio e vedo se funziona invia una notifica sms ma questo è un piano a pagamento per utenti avanzati che magari non vogliono per forza di cose usare un'app magari lo vogliono inviare a un sistema di allarme sms o a un cellulare magari che non ha la connettività o semplicemente vogliono un sms perché vogliono essere sicuri che gli arriva c'è questa funzionalità qua e sospendi la zona cioè cioè cosa succede se sono via metti caso che vado in vacanza non voglio che mi arrivi la notifica e basta voglio che quella zona venga chiusa quindi cosa faccio in questo caso in questo caso semplicemente dico sospendi per una durata di tot giorni se sono vicino casa sono a casa non metto sospendi la zona mi arriva una notifica intervengo direttamente se sono via posso intervenire in 3 4 5 6 settimane quello che voglio ok in questo caso ho creato il mio avviso ed ecco qua le ultime funzionalità sono relative ai manutentori non ho un account da professionista ma posso semplicemente aggiungere i clienti e posso dare la possibilità ai clienti di o modificare del tutto tutte le funzionalità che abbiamo visto prima o semplicemente aggiungerli per fargli ricevere delle notifiche e fargli aprire manualmente delle zone perché uno può avere l'esigenza di irrigare in quel punto lì semplicemente perché c'ha voglia di accendere l'acqua o di spegnerle in base a magari deve fare un convegno in una certa zona del giardino o vuole fare un pranzo voglio spegnere quella zona tramite questa funzione può farlo qui invece posso aggiungere altri programmatori al mio portale perché questo appunto non è un'app dedicata al programmatore è un'app dedicata all'irrigazione da giardino della serie draw wise quindi io posso aggiungere vari programmatori e gestirmeli se ho due tre o più case beate chi ce l'ha posso gestirmeli direttamente da un solo portale in maniera remota poi posso aggiungere file ma questo è per professionisti allora concludendo la comodità principale e fortissima di questo programmatore non è il programmatore in sé ma è il portale il servizio in cloud che segue questo serie di programmatori perché ne abbiamo tutta una serie qual è la comodità se si rompe il programmatore io tolgo il programmatore ne metto uno nuovo lo associo al mio programma ed è già fatto non devo stare a riprogrammare tutto ed è il vostro tutto come avete visto nel video nella parte precedente del nostro video l'installazione è relativamente semplice quindi anche un utente comune un pelo smaliziato riesce ad intervenire è comoda perché perché se non avete voglia di intervenire voi il vostro manutentore potrà comodamente gestire da remoto o capire quando c'è un problema senza per forza di cose venire è un risparmio per voi come clienti finali perché magari evita la tragitta e non vi fa pagare alla trasferta e per il per il manutentore classico evita di farsi un giro a vuoto magari se il problema non sussiste ed è molto comodo perché appunto non affidandosi a un'app io posso collegarmi con qualunque dispositivo in qualunque momento l'importante che io abbia connettività la comodità dell'app è relativa solamente alle notifiche e alle funzionalità smart normalissime che hanno tutti cioè accendo e spengo una zona io spero di essere stato abbastanza approfondito nella mia spiegazione a me questo programmatore piace tantissimo perché un passo in avanti importante nella reale domotica dal giardino perché abbiamo visto tanti programmatori cosiddetti domotici ma che non hanno funzionalità così profonde in questo caso invece siamo di fronte a un bello strumento complimenti a Hunter e Hydrawise alla collaborazione e spero vi sia piaciuto questa sorta di recensione e arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti